Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Un video registrato un pochino così di fortuna, in realtà sono qua sul mio portatile, stavo finendo di scrivere alcuni articoli, mi sono preso un attimino 5 minuti per fermarmi, per respirare un momentino, per far riposare gli occhi, e stavo guardando gli incassi del box office, sto notando appunto, ho notato alcuni dati riguardo un film, il film è in questione appunto, quello che vedete già nel titolo del video, però il secondo capitolo di Venom, Venom, la furia di Carnage, qui da noi, e mi sono detto ma perché no, registriamo un piccolo video, ho già scritto l'articolo prima che uscisse il film, già scorsa settimana, mi sono detto beh facciamo un video, che magari sicuramente è un articolo, l'articolo, cioè il film in sé è un prodotto abbastanza interessante, chi è appassionato di fumetti, di cinefumetti, in particolare quindi è il classico film, diciamo, dà la grande attenzione. Mi piacerebbe poi fare un discorso ben impostato su quanto ormai i cinecomics siano diventati il cinema per ragazzi di oggi, no? Io ho 32 anni e quando ero ragazzo esisteva ancora il cinema per ragazzi, film che avevano degli standard produttivi, delle linee, delle metriche, degli obiettivi narrativi ben precisi, cose che ora per esempio non ci sono più. Una cosa che stavo pensando giorni fa, di come non si fanno più film per ragazzi, e poi magari i film per ragazzi oggi sono i cinecomics, e di come i cinecomics, i cinecomics da sottogenere, stanno cercando davvero di ottenere una loro etichetta personale di genere per poi muoversi, cioè i cinecomics stupidini, quello un po' meno più impegnato, quello più raffinato, quello becero, e poi c'è anche Venom. Ho fatto tutto questo preambolo perché mi sono reso conto che alla fine un genere cinematografico si consolida nel mercato anche da film belli e da film brutti. Il primo Venom, lo ricordate, io sì, sono uno di quei pochi film che non mi... Il primo Venom non mi piacque molto, però nel tempo mi capitò forse l'anno successivo di rivederlo. Il primo film, il primissimo Venom è uscito nel 2018, non vorrei dire una stupidaggine, io lo rivedi a metà del 2019 per curiosità, per magari, non so, forse l'avevo visto male io, diciamo, l'avevo visto un po' con scarsa attenzione. Ricordo comunque sia che era un film non mi piacque, non mi piacque assolutamente, e rimasi anche abbastanza sbalordito dal fatto che incassò tantissimo. Un film che è costato appena 100 milioni, arrivò a incassarne circa 800 milioni di dollari, è tanto, una cifra, come soltanto 600 erano nel mondo, quindi i restanti 200 erano negli Stati Uniti. Quindi, insomma, non era stato neanche un grosso successo in patria più nel resto del mondo. Quindi, questo secondo film, diciamo, all'epoca, ecco, l'ho rivisto una seconda volta, anche per capire un momentino se... perché se vi ricordate, il primo Venom creò una... una grossa scissione, diciamo, ci fu un grosso... una grossa divisione, ecco, per torno, utilizzo la stessa parola, tra il pubblico che l'ho amato, tra il pubblico che è piaciuto il film e il pubblico che l'ho amato, le stesse persone che l'hanno amato, e queste cose è strano quando capitano. Cioè, il pubblico che ha iniziato a fare una crociata contro noi giornalisti, io, uguale, l'ho scrissi male del film e non mi piacque, e quindi il pubblico si sentiva proprio offeso, come per dire, un film che incassa 800 milioni non è un film brutto, è un film bello, è la stampa che non capisce niente. E diciamo che queste piccole cose saltano più all'occhio quando ci sono tanti film brutti durante un anno cinematografico, che io lo considero sempre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre, il mio anno cinematografico. E poi, quando soltanto per un tipo di film si fanno queste cose, allora mi salta veramente all'occhio, mi sono detto, ma davvero le persone hanno... cioè, neanche quando c'è un film Marvel brutto che la critica lo distrugge e il pubblico piace, succedono queste cose. O Venom, invece, si è alzato un polverone incredibile. Io sono stato uno di quelli presi di mira, nel senso che molte persone vennero anche ai miei profili a insultarmi, e mi ricordo di una cosa molto simpatica, vi faccio ridere, di un utente che mi accusava di essere di parte. Cioè, ovvero che intanto le recensioni fatte prima che il film esce al cinema sono recensioni finte, e ho dovuto spiegare il ruolo di un critico, di una persona che scrive di cinema, che quindi il film lo vede prima di quando esce in sala. Altro punto fondamentale è il ruolo delle recensioni. Ultimamente si parla sempre del ruolo delle recensioni che si ha per un film, che si ha per un libro, che si ha per un fumetto, che si ha per un videogioco. Specialmente per il cinema. Specialmente per il cinema. La recensione, secondo me, l'ho sempre presa come uno strumento che deve dare allo spettatore una chiave di lettura. A seconda della mia chiave di lettura, posso dire che il film mi è piaciuto per motivi X, e non mi è piaciuto per motivi Y. Se magari un pubblico segue assiduamente una firma, qualcuno segue la mia firma da molti anni e mi dice ok, quel prodotto lui probabilmente sarà molto più critico, perché so qual è il suo punto di analisi, come vuole vedere le cose. È chiaro che poi tutti i film c'è chi piace, c'è chi non piace. Secondo me la recensione deve dare, una recensione scritta deve dare allo spettatore la chiave di lettura. Magari anche secondo la chiave di lettura dello stesso giornalista che ha scritto l'articolo. Ecco, quindi io do una chiave di lettura. Ti offro questa chiave di lettura per inquadrare il film. Io in qualche modo devo dirti ciò che ho visto, devo dirti, anche qui apriamo un'altra parentesi, i film floppano perché ci sono le recensioni negative o no? Perché la gente dice sì, oppure semplicemente, questo io non ci credo perché la gente ormai, molti ti dicono io a queste recensioni non credo, la deciderò io il mio voto, no? Come se un critico che dice, ne so, 5 su 10, spoiler, è il voto che ho dato a questo Venom 2, io gli ho dato un 5. Allora quello è il voto universale, no? Quello è il mio voto che comunque sia nel momento in cui scrivo un testo e lo pubblico, deve essere come tale. Cioè quello, il testo è a supporto, comunque sia, del voto che poi c'è in calcia all'articolo. E' questo polverone particolare, quindi questa persona all'epoca mi criticò dicendo che la stampa non deve essere, cioè, la stampa non deve criticare. Infatti questa persona poi dopo un po' mi bloccò perché lo avevo un pochino, cioè ho cominciato un po' a discutere, a fargli notare che il suo discorso faceva acqua a tutte le... cioè non puoi dire alla stampa che deve essere neutrale e quindi, però, e quindi, secondo lui essere neutrale vuol dire parlare bene di tutto. Eh, ho capito, ma, quindi il ruolo, cioè, guarda, il ruolo della stampa, il ruolo della critica è questo, cioè di criticare il positivo e il negativo. Vabbè. Era un piccolo capitolo, però secondo me dava anche uno specchio di ciò che è il pubblico che va a vedere questi film, delle persone che, insomma, muovono delle guerre messianiche per dei prodotti che, secondo me, non meritano proprio così tanta attenzione. Dopo questi 7-8 minuti scarsi parliamo di Venom 2, perdonatemi di lungo, ma alla fine c'è poco da dire. Venom 2 è essenzialmente una presa di posizione cosciente di Sony nel prodotto che è uscito dal primo Venom. Io sono dell'idea che il primissimo Venom non doveva essere quel tipo di film. Il primo Venom è un film spezzettato, tagliato. Doveva essere una cosa diversa. Non doveva essere quel film lì. Non volevano fare un film forse vietato ai minori. E quindi hanno tagliato tutta la violenza per renderlo un po' più così divertente. Hanno cercato, per ricollegarmi al discorso che ho fatto all'inizio, di voler creare dei sottogeneri, delle sottoetichette per quanto riguarda i cinecomics, hanno voluto cercare una narrativa abbastanza diversa, un pochino più frivola. Perché alla fine anche questo Venom 2 non ha la consistenza produttiva nel dire che questo film è costato più di 100 milioni. Il primo Venom è costato 100 milioni, quindi questo ne sarà costato 150, 120, non lo so. E sta andando bene, nonostante il Covid, diciamo, perché ora chiaramente i dati box office si guardano in virtù del fatto che siamo ancora in emergenza Covid e negli Stati Uniti, per quanto che si dica, è ancora critica la situazione, specialmente poi per discorso cinema. Quindi Venom, la Fury of the Carnage è un po' una presa di posizione di Sony. Sony ha capito, in parte, che quello stile un po' frivolo, che quel mostro di Frankenstein così particolare aveva attirato gli spettatori, tanto da difendere quel progetto. Ripeto, ho visto fidelissimi di Venom, ma ancor più di film Marvel. Perché di solito molti fan Marvel, che magari, come ho sempre profetizzato, questa fase 4 sta piacendo tantissimo a chi aveva dubbi sulle produzioni Marvel e sta deludendo tutti i fan Marvel. Black Widow, Shang-Kee, film che a me sono piaciuti molto e che i fan Marvel invece non sono piaciuti. Ecco, quindi adesso è la ribalta di chi ha sempre criticato la Marvel per determinati motivi, ora la Marvel sta cercando di fare davvero qualcosa di diverso e i fan non riescono più a percepire questa fidelizzazione. Che è giusto che sia un cinecomics come film di trattenimento dovrebbe arrivare a un pubblico ampio, a tutti, anche a chi, come me, magari non ha mai apprezzato gran parte delle produzioni Marvel. Gran parte. Molti no apprezzati, molti no. Parliamo anche di dieci anni di film, quindi decine e decine di film. Quindi Sony ha capito che cosa funzionava e lo ripropone. Lo ripropone in un modo abbastanza furbo. Intanto non chiama un regista, chiamano Andy Serkis alla regia. Andy Serkis lo sapete, no? Cesare, nei reboot del Pianello delle Scimmie, Gollum, prima. Serkis è un non-regista, l'ho sempre definito così. Perché è un regista che, a parte ha fatto un casino assurdo nel suo film d'animazione, cioè, no, scusate, nel suo film un po' in computer grafica, un po' o no, in live action, ma tutto computer grafica, del libro della giungla, che poi è arrivato direttamente su Netflix, dovrebbe chiamarsi, solo Mowgli dovrebbe chiamarsi. Film che lui, di una certa, ha abbandonato. Quindi, da grande progetto rivoluzionario, con una CGI, con una motion capture, con tutti gli attori, Baghera, dove è Christian Bale, insomma, per dirvi, era un bel cast corposo, c'era anche Kit Blanchett, insomma, è uscito un film che lui ha abbandonato a più parti, qualcuno l'ha completato e poi l'ha buttato lì, insomma. Lui non ha questa virtù registica, molto meglio d'attore, sicuramente. E quindi lui è il non regista, è il classico regista che una major chiama, una produzione chiama per portare a termine un progetto, senza fare domande, rispettare la tabella di marcia, è anche vero che questo film dura anche meno del primo. Il primo durava, se non sbaglio, durava 100-110 minuti circa, questo ne dura 90, questa è un'ora e mezza secchissima, ed è anche abbastanza pesante, nonostante se è poco, perché essenzialmente nella sceneggiatura non succede nulla. Quindi anche qua ci accodiamo a uno dei tanti problemi anche di Venom, La Furia di Carnage, che è un film che ha un valore produttivo pari allo zero, cioè non ti rendi conto che è un film su cui ci hanno lavorato decine e centinaia di persone, siamo una roba buttata un pochino lì. Molti se la prendono con la mancanza di violenza, con il fatto che anche in questo film non vedi una goccia di sangue, questo è un problema relativo secondo me, perché anche un film leggero, molto più simpatico, che ha dei personaggi cattivissimi, deve sempre darti quella modalità, quella sensazione di putrido e con Carnage riesce benissimo che lo Clatus, che Clady, oddio, Cassidy, Clady, vabbè insomma si capisce che non sono un fan dei fumetti, insomma Carnage lo interpreta il personaggio, il serial killer Clatus Cassidy forse sì, Woody Harrelson e Woody Harrelson è un attore che chi mi segue lo sa, mi piace da morire, piace da morire, è la cosa brutta di quando ti piace tantissimo un attore che poi tendi a seguirlo in tutto e Woody Harrelson ha fatto anche un sacco di cazzate, ecco eh, oppure fa le cagatine, ma come dico sempre, un po' come mi piace tantissimo Ethan Hawke e lui fa molti film indipendenti, lavora specialmente in quel campo, poi fa il grosso film perché tutti hanno mutuo da pagare, quindi insomma è chiaro che la produzione blockbuster ti paga di più mentre una produzione più piccolina ti paga di meno guadagnandone sicuramente a livello produttivo e narrativo. E Woody Harrelson funziona tantissimo, però arrivo a un certo punto del film che anche lui non ci crede più, ha capito che è un po' è la mia teoria su Mark Ruffalo, voi guardate Mark Ruffalo quando recita nei film degli Avengers e deve fare Hulk e quando fa qualcun altro film e ha un tipo di recitazione e un altro tipo di recitazione perché sa che nei film in cui deve fare Hulk non deve impegnarsi più di tanto, il minimo è dispensabile, quando poi ci sono altri progetti si impegna di più e dici vedi che bravo attore che è, ecco. Quindi è una certa qui, anche lui Woody Harrelson è una certa si abbandona, cioè proprio la butta un po' in overacting si lascia andare e lascia le scene quelle un pochino più interessanti addirittura a Carnage e quindi poi si inventano questa cosa che loro due non sono compatibili perché Cassidy pensa una roba Carnage ne pensa un'altra invece il valore di Eddie Brock e Venom che anche se anche loro la pensano in un modo diverso però loro sono compatibili sapete, ecco queste sceneggiature che buttano giù queste parole tanto per buttare giù qualcosa ma poi alla fine concretamente se ti fermi a pensare non hanno nessun senso e quindi come detto la storia la buttano un po' così quindi ripeto la violenza la mancata violenza nel film è vero non c'è violenza non c'è niente non c'è una goccia di sangue però qual è il problema? non è un vero problema ma se poi costruisci il personaggio di Venom su altri con altri stilemi del tipo che Venom c'è questa scena nessuno spoiler non vi preoccupate questo ormai faccio uscire il video il film in realtà è già uscito sono io che non ho avuto tempo di registrare magari un video neanche prima che lui litiga con Eddie quindi va via si va a attaccare ad altri esseri umani e poi va in questo festival underground in cui si fa paladino dei diversi lui come alieno quindi è un diverso e fa il mic drop aiuto ecco sono queste cose che esulano dalla semplicistica ricerca di fedeltà del personaggio cioè non dico che ora bisogna andare a trovare nei fumetti storie che lui ha fatto del genere no perché per quanto mi riguarda il film va giudicato nel film in sé nel prodotto in quei 90 minuti in quella cornice cinematografica non dai riferimenti dei fumetti e come film in sé è un classico film mediocre che strappa qualche risata c'è qualche battuta che sinceramente mi ha fatto ridere ma concretamente questa questa poltrona per due questa convivenza forzata tra un alieno e un essere umano che si fa di battutine ha quello spirito da pseudo body movie diciamola così che funzionava tantissimo negli anni 90 ecco perché ho fatto tutto quel preambolo sul discorso del cinema per ragazzi che è scomparso è un po' il modo è il motivo anche per cui i body movie oggi non si fanno più funzionavano prima hanno spremuto dagli anni 80 fino fino ai fine anni 90 inizi 2000 forse l'ultimo body movie interessante The Nice Guys Man in Black 3 ok e sono proprio casi eccezionali costruiti su altro Iron Man 3 diciamola così ma poi alla fine di body movie c'è veramente poco ma c'è quella sensazione Shane Black infatti The Nice Guys genio assoluto pazzo scatenato amo tantissimo quindi questo Venom uguale Andy Serkis ripeto è un non regista non c'è qualcosa che vai a ricordarti di questo film ci sono quelle scene proprio estreme ma sono estreme non nelle intenzioni dei personaggi sono estreme soltanto nel modo in cui vengono costruite visivamente quindi potrebbero essere interessanti una piccola scena fuori da un vecchio orfanotrofio se non sbaglio o una casa di cura non ho ben capito una certa ti perdi proprio a seguire tutto perché non ha la logica degli eventi è un po' casuale ok oppure lo scontro finale nella chiesa sicuramente molto più interessante dello scontro finale del primo film che dove era in quella stazione di ministri che cazzo era non mi ricordo al di fuori di quella struttura che te lo scordi proprio ciò che non mi piace ancora una volta è il design di questi simbionti perché li rendono tutti uguali cioè Carnage alla fine è uguale al simbionte del primo quello grigio Riot si chiamava non vorrei dire una cazzata vabbè il cattivo del primo che era grigio se non sbaglio cioè sono sempre uguali e da ciò che so che ho sempre percepito da chi legge fumetti li legge tantissimo Carnage è un personaggio è una furia omicida è proprio la cattiveria pura è carneficine ecco ma poi questa cosa che nel film Carnage parla di sé in terza persona c'è questa scena in cui verso il finale lui dice ecco inizia eccola la furia di Carnage cioè sottolineare addirittura il sottotitolo italiano cioè queste cose non le vedi in un cinema blockbuster mainstream di oggi Venom quindi la furia di Carnage lo vedo su quel cinema proprio hardcore mi viene da definire un hardcore underground con tutte le limitazioni del genere cioè un cinema secondo me di serie B palese che però è talmente esagerato sanno di avere dei soldi e quindi esplodono in questi colori in queste scene che vogliono dire tantissimo ma e questa è la cosa brutta non ti lasciano niente concretamente non ti lasciano nulla quindi è un'esplosione di simbionti di cose che si prendono a pizze di aculei lanciati da trasformazioni ma alla fine non ti rimane nulla ed è un peccato perché comunque se tutti questi aspetti anche il modo in cui si trasforma Carnage è molto interessante che prende il sopravvento sul corpo umano c'è questa metamorfosi anche del corpo e secondo me avrebbero dovuto puntare di più su piccoli aspetti del genere perché il cinema molte volte si costruisce su queste piccolezze il primo Suicide Squad di David Ayer è un brutto film sicuramente ma c'è una scena che a me è sempre rimasta che l'ho trovata affascinante è quando assistiamo noi dal vivo alla prima trasformazione di Incantatrice il personaggio di Cara delle Vigne c'è la scena della camera riprende la mano e da sotto la mano fuoriesce un'altra mano che è dell'Incantatrice che si stringe e prende il controllo una piccolezza è una piccolezza che però ti rende un'idea di cinema ben impostata cioè che l'Incantatrice questa entità è all'interno e fuoriesce per abbracciare stringere la mano e prendere il controllo del corpo è una cazzatina la stessa cosa succede qui quando Carnage si trasforma che prende il sopravvento su Cassidy Cletus Cassidy spero di aver detto bene il nome però un buon regista una storia anche scritta bene una gestione proprio di tutti gli impianti di tutta la macchina audiovisiva renderebbe queste cose queste scene molto più interessanti molto più forti e invece ti ritrovi ad avere una commedia d'azione di avventura che ha qualcosa da spartire forse più con Guardiani della Galassia o con altro è anche vero una roba siamo da poco usciti dal successo di The Suicide Squad di James Gunn e quindi anche fare un film così sboccato Venom è un altro film molto sboccato in termini di parolacce di prese per il culo di gestacci e tanto tanto altro è sempre nel confronto che non si deve mai fare ma nel momento in cui mi rendo conto che è uscito The Suicide Squad e poi vedo Venom che più o meno Venom vuole essere un po' così trasgressivo e riverente ma essendo così limitato limita proprio tutto il valore produttivo del film che è la cosa che secondo me è la grande critica che posso muovere a questo secondo capitolo di Venom che è come la stessa critica che muovo il primo non è il miscasting Michelle Williams Tom Hardy tutti fuori ruolo secondo me Woody Harrelson c'ha la faccia da scemo quindi un ruolo da serial killer un po' schizzato gli sta benissimo non è quindi il miscasting non è la mancanza la mancanza di violenza non è rendere un film una commediola di movie di serie B eccessivo però di grande sperimentazione sicuramente visiva ma che di tutto questo sembra di stare a vedere un filmetto proprio da canale 5 il pomeriggio ed è questa la cosa brutta perché ci sono tanti film brutti che ti lasciano comunque sia qualcosa come anche tanti film belli che hanno dei momenti brutti ma comunque sia i film belli poi vivono perché è un valore produttivo grosso voi immaginate che in termini di sceneggiatura di battute per esempio si parla più in Venom che in Dune di Villeneuve Villeneuve è un film che te lo ricordi per tanti altri motivi ha un valore produttivo ha dei valori audiovisivi nettamente migliori nettamente maggiori non è un confronto tra i due film chiaramente ma Venom nel modo in cui non so vi faccio un esempio sto continuando sto dilungando però per inquadrare bene il punto Thor The Dark World è uno dei film più brutti della Marvel penso che siamo tutti d'accordo su questo anche i fan della Marvel dicono Thor The Dark World però c'è una scena come dico sempre c'è una scena che a me piace da morire è quando Thor va a incontrare Loki dopo che è morta la madre o quando glielo dice non me lo ricordo e lui si fa vedere tutto felice contento una roba del genere e poi in realtà è solo è un è un'illusione lui è distrutto dalla rabbia la scena dopo lui si vede come sta lui realmente è distrutto sfavato i capelli lunghi distrutto il cuore a pezzi perché è morta la madre anche se è adottiva ma è morta la madre mi è rimasta è una cosa secondo me costruita bene ha le sue camera messa bene fotografata bene con le giuste tempistiche e la giusta musica in quel momento poi il resto del film lo butti di Venom ecco non ti ricordi niente anche questo secondo film manca di una qualità produttiva quello che più mi preoccupa è che guardando anche la scena post credit ma si sapeva sarebbe andata a finire così quindi come puoi pensare di inserire questo valore produttivo nel futuro ecco perché dico sempre non quando qualcuno scrive anche io ho scritto della mancanza di violenza del film ma occhio perché in un contesto del genere con un valore produttivo di questo calibro tu domani non puoi fare un terzo film su Venom cambiando tutto perché la Sony ha capito che quello funziona quello vince quindi ti ripropongono quello come è successo con questo Venom 2 dunque il grande problema di Venom alla fuori di Carnage oltre a tutti i difetti che già ci sono è nel valore produttivo che rischia di isolare questo personaggio in un franchise singolo non potendolo ampliare a niente perché se tu lo ampli a un mercato più grande appunto a un progetto di universo condiviso più grande lì va incontro a è come avere un'orchestra con dieci elementi ognuno che suona a un suo modo e nessuno segue il direttore e penso che è un esempio abbastanza valese poi per il resto ripeto un film secondo me mediocre quanto il primo volutamente mediocre nel senso che quello ha funzionato nel primo e quello ti ripropongono è giusto molti dicono perché Sony non ci prova è giusto Sony non ci prova perché quello funziona è inutile stare a sperimentare 26 quasi 27 minuti per ben un due non me lo sarei mai immaginato mi volevo prendere giusto 10 minuti io vi ringrazio per aver visto questo video se volete ci vediamo nei commenti in un modo spero sempre intelligente io spero di fare sempre dei di darvi dei punti di vista come ho sempre detto all'inizio del video riguardo il valore delle recensioni delle chiavi di lettura la mia chiave di lettura è che questo valore produttivo a questo film lo capisco nella vendita a livello commerciale non lo capisco a livello narrativo non lo capisco nel senso che secondo me non può funzionare alla lunga a livello narrativo perché posso venire a dire che magari carneggia un bel personaggio ma secondo me l'hai buttato al cesso e non c'è modo di farlo tornare per ovvi motivi insomma vi saluto qua come sempre vi ricordo ci vediamoci nei commenti c'è il canale telegram lo uso molto poco ma vi annuncio solo quando escono nuovi video però se qualcuno è interessato perché no ci vediamo a un prossimo video chissà che cosa sarà magari ne registro un paio e li spalmo anche se non ho visto molto negli ultimi giorni ciao a tutti